Dopo il rinvio di ieri per i rilevi sollevati dall'Udc, la mozione presentata in Consiglio regionale della Lega, primo firmatario il capogruppo Dario Giagoni, per aderire al referendum che prevede la cancellazione della quota proporzionale dalla legge elettorale nazionale, potrebbe avere il via libera dell'Assemblea Sarda. Serve infatti la maggioranza assoluta del Consiglio, che potrebbe arrivare grazie alla decisione di Forza Italia di votare a favore della mozione, contrariamente a quanto annunciato nel corso della seduta di ieri, in cui la posizione degli azzurri era quella della stensione. E senza i voti di Forza Italia, le perplessità dell'Udc, serve impossibile per la Lega raggiungere il quorum richiesto. Al fine celebre il referendum abrogativo servono le richieste congiunte dei cinque consigli regionali e la Lega, che punta al maggioritario, sotto questo profilo può contare su diverse regioni pronte a sottoscrivere la richiesta, dal Piemonte alla Lombardia, passando per il Veneto, il Friulio e l'Abruzzo. Ora la Sardegna si avrà approvata la mozione. Il testo di richiesta del referendum dovrà poi essere depositato presso la Corte di Cassazione entro la fine di settembre, ovviamente ai contrari i partiti di opposizione, che vedono nell'approvazione della mozione un grimaldello istituzionale al fine di passare da un sistema misto ad uno maggioritario, puro, in cui la Lega, che in base ai risultati delle elezioni europee e il primo partito, con il 34 dei consensi, punta, magari costituendo una coalizione con Forza Italia e Fratelli d'Italia, e così ottenere l'unpline anche nelle prossime politiche.